Federica Frigato! Dall'altra parte! Eccolo! Il nomaggio! Vai! Beh? C'è una lacrima, un qualcosa... Niente, zero! No, sono troppo felice per piangere, grazie! Ma forse ne è arrivata in due! Così? Ok! Ma tu lo sai che il primo di marzo sarai 150.000 copie di giornale in tutte le edicole d'Italia? Grazie! Grazie mille!